Buongiorno, vi sono una quantità di filosofi che si affannano a darci indicazioni di vita. Ora, questo Michel Offray, la saggezza, ci dà la sua versione di quella che secondo lui dovrebbe essere la saggezza, mentre invece Mark Lilla più modestamente si sofferma sul naufragio della ragione. L'impressione è un dibattersi in una sempre più confusa cultura che in realtà non trova risposte a quella che è l'esistenza di ciascuno di noi. Tempo fa è stato pubblicato un libro che ho cercato nella mia confusa biblioteca senza trovarlo, sulla ricerca della felicità. Alcuni filosofi cercavano di fare una sorta di silloge su chi ha cercato attraverso la filosofia un certo livello di felicità. Mentre invece c'è chi è radicalmente contrario alla felicità, ritiene anzi che l'errore, addirittura, arriva a sostenere che l'ottimismo è nocivo a religione e filosofia perché sbarra la strada verso la verità. Ecco, questa è l'opinione di Schopenhauer, di cui abbiamo già parlato e probabilmente parleremo ancora. Egli sostiene che esiste un unico errore, addirittura, ed è quello di credere che viviamo per essere felici. Ora, la negatività e io per certi versi direi anche l'incongruenza della filosofia di Schopenhauer, è utile a stimolare risposte contrarie perché in realtà galleggia tra luoghi comuni e catastrofisti e catastrofismi escatologici. Io sono molto più portato a considerare le cose da un punto di vista effettuale, reale, empirico perché penso che sia assolutamente esiziale il senso di morte che alberga nella mente, nello spirito di molti intellettuali, filosofi e scrittori. Cioè, la morte, come diceva Epitetto, non ci riguarda perché quando arriva noi non ci siamo più. E questa cosiddetta preparazione alla morte, addirittura c'è chi sostiene, in parte anche la religione cattolica, che la vita non è altro che preparazione alla morte, lo trovo una insensatezza. Se anche avesse un senso, è qualcosa che noi dovremmo superare. Dovremmo superare perché altrimenti, effettivamente, toglieremmo ogni significato della nostra vita. Rimandandola non si sa bene a cosa. Per esempio, secondo Schopenhauer, in modo, oserei dire, surreale, la prosecuzione della specie, quasi che al singolo individuo interessa soffrire e fare una vita infelice perché la specie continui e continui ad essere infelice, evidentemente, perché se il fine è questo, è chiaro che non c'è sarà mai, il che mi sembra una gravissima incongruenza. Comunque, al di là delle considerazioni di carattere filosofico, se noi ci soffermiamo a quello che è più specificatamente il nostro campo, il campo dell'arte, il campo dell'arte, a mio parere, riflette questo spirito di vuoto. Cioè, al di là delle considerazioni prettamente estetiche, che sarebbero molto vaste, proprio l'idea in sé, il modo come ci si appropingua all'arte, queste forme che sono vuote, sono neutre, o addirittura trasmettono un senso di infelicità. Penso alle opere di Bacon, penso alle opere di Lusen Freud, oppure a certe forme di perversione. Penso, per esempio, a certi artisti che si perdono nell'esaltare gli aspetti peggiori della natura umana. Non capisco, francamente, questa compiacenza nel brutto, questa compiacenza nel triste. Io ritengo molto semplicemente che, e tra l'altro, io penso che questo aspetto sia contrapposto, sia esattamente il contraltare di quello che è un antropocentrismo esagerato. Perché se noi continuiamo sempre a pensare, mettiamo sempre noi stessi, per esempio uno dei difetti, a mio parere, per carità, so che mi attiro le ire, del proprio femminile, del femminismo, è proprio questa forzatura solipsistica, questo pensare a sé, devi essere felici, devi essere te stessa, eccetera, eccetera. Ma sono frasi quantomeno inutili. Perché ammesso che abbiano un senso, ciascuno di noi, per essere felici, per pensare a sé stesso, per ottenere un qualche risultato positivo, deve prima prontare gli strumenti, deve prima essere preparato, avere la capacità di ottenere un risultato, anche sull'egoismo. Perché se no non ottiene nulla, se no fallisce su tutta la linea. Quindi, un po' quello che succede, io l'ho detto in altre occasioni, no? Cioè, per esempio, la scuola oggi, che riflette questa mentalità abbastanza femministoide, sembra voler facilitare proprio la vita, lo studio, tutto degli studenti. Il che, a mio parere, è un errore madornale. Non perché ci si debba compiacere della difficoltà, ma perché la difficoltà è il momento in cui noi ci concentriamo e diamo, se lo abbiamo, il meglio di noi. Nella famosa, banalissima, ma forse giusta frase, la necessità guzza l'ingegno. Ecco, quindi il fatto di affrontare delle sfide, il fatto di cercare di capire il mondo nel quale viviamo, cercare di superare determinati stereotipi mentali, non è un qualcosa fino a se stesso. Non è un esercizio astratto, inutile. E' il fondamento. Quindi quando i filosofi predicano l'ottimismo o predicano il pessimismo, toccano due estremi che di per sé non hanno nessun significato. Perché il problema non è né l'uno né l'altro, ma la nostra capacità, il nostro impegno, la nostra intelligenza, la nostra preparazione per affrontare le semplici realtà che ci troviamo di fronte. Questo è il punto cruciale. Ora, se noi togliamo tutti gli ostacoli, facilitiamo tutto già ai bambini, poi gli adulti, gli adolescenti, eccetera, non gli facciamo un buon servizio. Perché non li prepariamo ad affrontare le difficoltà che inevitabilmente la vita porrà davanti a loro. Quindi noi dobbiamo, non c'è una forma di sadismo, il creare delle difficoltà, tutt'altro. Sarebbe bellissimo vivessimo in un mondo in cui è tutto estremamente facile. E poi non è detto, perché anche in un mondo estremamente facile porterebbe a una sorta di rammollimento generale, come in parte già avviene, come in parte già avviene. Tanto è vero che noi vediamo rampolli di famiglie miliardarie, grandi potere, primati sociali, che si suicidano. Potremmo fare un lungo elenco di questi soggetti o soggetti cantanti, gente così, che è il massimo del successo, quindi ricchezza, notorietà, eccetera, si suicida. Si suicida direttamente oppure si suicida attraverso l'alcol, attraverso le droghe, eccetera. Ecco, questo dovrebbe farci riflettere. Perché chiaramente manca la capacità di affrontare la vita per quello che è. Senza eccessi o destremismi di vario genere. Cioè, in quest'ottica, la questione dell'ottimismo e il pessimismo non hanno praticamente significato. Perché non siamo noi che creiamo le situazioni che dobbiamo affrontare. Noi li troviamo e dobbiamo superarle. Questo è il punto. Di qualsiasi genere, che so io, la malattia, il dolore per la perdita di persone che amiamo, le difficoltà della nostra esistenza, pratiche, di lavoro, professionali, eccetera. E sono tutte cose che inevitabilmente ci troviamo ad affrontare. Le persone comuni, ma anche le persone, come dire, che hanno posizioni sociali importanti, hanno lo stesso dei problemi. Infatti, come dicevo, i figli di questi soggetti spesso sono il massimo della depravazione e dell'infelicità. Quindi significa che non basta. Fromm aveva scritto un testo, Avere o Essere, no? Un libro. Avere o Essere. Esattamente è uno dei problemi. Avere o Essere. L'avere non compensa l'essere. E quindi è molto più importante l'essere che l'avere. Perché l'essere ti mette in condizione di affrontare la realtà. L'avere no. L'avere ti crea delle illusioni. E' cosa che noi, secondo me, viviamo. Questa illusione di massa, di benessere, che la tecnica ci aiuti a superare tutto, la scienza... Non è così e lo vediamo, per esempio, in questo momento, torno a citarlo, il coronavirus. Ma non è l'unica calamità, perché basta un po' di pioggia, basta qualche terremoto, un tusmane, una cosa, qualunque della natura che si ribella e noi ci troviamo in serissime difficoltà, oltre a vedere centinaia e migliaia di morti. Quindi, ripeto, non si tratta di essere ottimisti, di essere pessimisti, di evitare di pensare, perché è un esercizio faticoso e inutile. No. Noi dobbiamo... Lo strumento che noi abbiamo per affrontare la realtà è la ragione, il cervello, la nostra intelligenza, poco tanta che sia. Questo è l'unico strumento che ci aiuta ad affrontare la vita e la realtà. E anche l'arte. Prima citavo l'arte. Gli artisti producono queste cose tristi, squali, dei significanti, perché sono tristi, squali dei significanti, nella maggior parte dei casi. E sanno benissimo che queste tristezze, attraverso pubblicità e marketing, finiscono sul mercato comunque. E quindi un abbassamento del livello culturale, artistico nel complesso della società, che bada esclusivamente agli aspetti pratici, funzionali, di risultato. Ecco, come diceva Bertrand Russell, la cultura più utile è quella inutile. E io condivido questo principio, perché ti prepara un livello di conoscenza che non sia soltanto funzionale a un determinato scopo, ma ti aiuti ad avere una visione più chiara, più ampia della realtà che affronti. E questa realtà è sempre multiforme, cambia sotto i tuoi occhi, e tu non puoi fermarla, devi saperla affrontare. Non puoi modificare la realtà, ma puoi affrontare gli strumenti per affrontarla. E questo in buona parte dipende da te. Termino qui. Lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono, e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.